Il ricorso per Gela, promesso dal sindaco Domenico Messinese, tarda ad arrivare e l'ospirare del termine di proposizione sancirà la definitiva bocciatura da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Il comitato Gelensis Populus, così come ha annunciato qualche giorno dietro ai nostri microfoni dal portavoce Liliana Bellardita, scende nuovamente in campo e lo fa con un volontinaggio. Per le strade della città i componenti del gruppo stanno informando ai gelesi di cosa sta accadendo dopo la bocciatura da parte dell'Assemblea regionale siciliana dei decreti legge che dovevano formalizzare il passaggio territoriale delle città di Gela, Niscemi e Piazza Almerina alla città metropolitana di Catania. Si stanno rivolgendo direttamente alla gente, ricordando che la città ha affrontato una notevole spesa a quasi 20.000 euro per effettuare il referendum confermativo del 2014. Non essere conseguenziale rispetto a quanto detto dal primo cittadino con la proposizione del ricorso contro la regione, dice Gerensis Populus, significa tradire la volontà democraticamente espressa vanificando il referendum e sancendo il definitivo addebito della spesa sui cittadini gelesi. Il sindaco, rimarca al comitato, ha voluto fare sua la battaglia dei liberi consorsi delegando l'assessore Francesco Salimitro quale assessore metropolitano. Più volte i due alti componenti della giunta si sono legati a Catania incontrando ufficialmente il sindaco Enzo Bianco con il quale ci sembrava assessore operando per agevolare il nostro passaggio verso la città metropolitana di Catania che oggi vediamo ancora lontano. Adesso manca poco alla scadenza dal termine entro il quale è possibile fare ricorso promesso da Messinese e noi, dice Gerensis Populus, non possiamo fare finta che tutto vada bene nascondendo i fatti alla città. Chiediamo a tutte le associazioni che si sono battute per il passaggio di Gela a Niscemi e Piazza Almerina alla città metropolitana di Catania di uscire dal silenzio per unirsi alla nostra protesta. I componenti del comitato si rivolgono direttamente al sindaco Messinese. Hai detto che l'unica soluzione è fare il ricorso contro la regione? Adesso fallo, prima che sia troppo tardi.